Un investimento di oltre 38 milioni di euro per lo sviluppo in Toscana degli anticorpi monoclonali contro il Covid. È quanto prevede l'accordo di programma firmato a Firenze tra il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione Toscana, la Società Toscana Life Sciences, Sviluppo con Seda Siena e Invitalia. Un accordo che consentirà la produzione ogni tre mesi di 100.000 dosi di anticorpo monoclonale sviluppato dal team guidato da Rino Rappuoli. Abbiamo sottoscritto con il Presidente Fabrizio Landi quell'intesa che ci porta a essere rappresentati in quella che sarà una nuova società, la TLS Sviluppo, che è la società che consente la produzione materiale di 100.000 dosi in tre mesi e altrettanto nei tre mesi successivi per quella che è la medicina verso il Covid-19. Da una parte c'è la vaccinazione che serve a creare uno schermo preventivo, dall'altra avere delle terapie comunque aiuta molto perché consente di curare le persone che purtroppo contraggono il virus e possono sviluppare la malattia. Questo è il primo elemento che va sottolineato. Il secondo aspetto è un aspetto di natura economico-industriale perché io credo che questa pandemia ci abbia insegnato alcune cose, che l'industria legata al settore farmaceutico, al settore delle scienze della vita, al settore sanitario in senso lato deve essere considerata un'industria strategica per il Paese. L'accordo prevede la realizzazione di un programma di sviluppo industriale articolato in due progetti, uno di investimento produttivo e l'altro sperimentale, finalizzato allo sviluppo e alla successiva validazione clinica di un anticorpo per sconfiggere il Covid. Noi come dicevamo abbiamo l'obiettivo, entro la fine primavera c'è stata, di aver completato gli studi, avere i dossier pronti, per cui le autorità italiane, AIFA e il suo superiore avranno gli elementi per decidere. Se diceranno positivamente, a quel punto saremo in grado di fornirgli le prime 200.000 dosi di cui parlava il Presidente, per l'uso ovviamente in Italia. Nel progetto anche la riqualificazione del complesso industriale di Siena della TLS e l'acquisto di macchinari e attrezzature che permetteranno di produrre su base industriale l'anticorpo sviluppato. Grazie a tutti.